Perché era la prima sera, abbiamo fatto un bis di primi e un secondo solo sì. Questa sera, esaffirando, è arrivata anche la grappa e vi dico che alla fine la bottiglia non c'era più. E non è caduta in terra, forse neanche nel tombino, i miei amici qui vicino hanno dato una mano a me. I risultati di questa notte non possiamo più saperli, abbiamo fatto molti assaggi. E poi dopo la scoviglia, tutto pieno di dolcietti, tutto pieno di cicchetti e adesso siamo qui. E se in giù qui è una vaga, come di a finire la sera, sembra un bel compagnale, sembra quasi uno sperare. Tutti pazziano il cervello, come faccio io a parlare, le canzoni a raccontare. Se poi quello che ho bevuto viene fuori con lo standuto e gli sbranzi siete voi. Sono qui con questi scinti, molto più giovani di me, ma non sono certo steli, questo bene anche per me. Se vedevo tutto io, poi dicevo bell'anzio. Come andrà a finire stanotte, come andrà a finire stanotte, io proprio non lo so. Benvenuti a tutti quanti, questi ragazzi sono tanti. Qui c'è il pallo a lunga e su cosa che qualcosa poi dirà che magari canterà. Za, 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 za.